Autostrada pronta ad accogliere l'esodo 2024, c'è proprio un piano dell'ANAS concertato con Polizia Stradale e Prefettura in vigore dal 27 luglio fino al 3 settembre, sospesi i cantieri per agevolare gli spostamenti. ANAS ha ripiegato i cantieri in essere lungo la tratta dell'autostrada del Mediterraneo già dallo scorso fine settimana, cioè dal 12 luglio. Progressivamente i cantieri che si sono protratti durante questa settimana sono in chiusura. Dalle centrali operative dell'ANAS si ricorda che il tratto stradale è sicuro e videosorvegliato. ANAS ha implementato il servizio di sorveglianza, di soccorso meccanico agli svincoli per reagire immediatamente ad ogni possibile interferenza al naturale deflusso del traffico. Infine i consigli per gli automobilisti che si mettono in viaggio. I consigli per gli utenti sono sempre quelli di fare attenzione alla guida, quindi massima attenzione, prudenza rispetto della segnaletica e del codice della strada e autorregolamentarsi per pianificare delle soste strategiche, soprattutto nelle ore più calde della giornata, per garantirsi un viaggio sereno e fluido. Nel piano di ANAS per l'estate 2024, previsti ad agosto due giorni da bollino nero sul fronte del traffico. Nel piano di ANAS per l'estate